Sì, perché nel contratto con la Bolt sono stati donati alla Polizia Municipale questi quattro monopattini che sono stati colorati con le insegne della Polizia Locale della città di Imperia. È un modo, per essere anche più veloci negli spostamenti, moltiplichiamo i nostri bravissimi vigli urbani, ma sono ancora pochi e quindi li facciamo accelerare con una mobilità più comoda per essere più presenti sul territorio. Quindi è un modo carino di presentarsi con una mobilità elettrica alla nostra comunità. Assessore Gagliano, come e dove verranno utilizzati questi monopattini in dotazione al comando della Polizia Municipale? Questi monopattini sicuramente verranno utilizzati, come vedete voi, qui nelle aree verdi o nelle ZTL. Sicuramente per arrivarci faranno un percorso dell'Aurelia ma soprattutto farli girare in zone tranquilli dove non c'è traffico e quindi diciamo che non si vedranno come rumore ma si vedranno come Polizia Municipale che mi sembra di aver visto e anche avete visto che è una cosa carinissima vedere questi monopattini. Saranno poi dotati anche di casco? Ecco, poi saranno giustamente dotati di casco e anche di zainetto dove metteranno loro tutta l'attrezzatura per poter adoperarsi meglio. Ecco, una battuta.